Siglato un protocollo operativo tra IMSS e il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP lo scorso 20 gennaio, questo strumento permetterà di intensificare i controlli sui richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza. Nel rispetto della normativa sulla privacy potrà essere effettuata una verifica mensile e automatica tramite sistemi di interoperabilità e una modalità strutturata di scambio dati. Dell'eventuale stato detentivo dei richiedenti, il reddito di cittadinanza prima dell'erogazione del beneficio, si precisa. Grazie al protocollo l'IMS potrà oltretutto in automatico revocare e recuperare la prestazione non dovuta in caso di omessa dichiarazione facendo riferimento all'articolo 7,10 del Decreto Legge numero 4 del 2019. Con il nuovo protocollo prosegue l'intensa collaborazione tra IMSS, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, si legge nel comunicato finalizzata al potenziamento delle verifiche sulle prestazioni erogate dall'Istituto. Ancora una volta la pubblica amministrazione lavora in squadra a servizio della collettività e applicando la tecnologia migliora la qualità dei propri servizi.